I poliziotti del CONSAP hanno lanciato il loro invito a non votare per una roba. Ah, fantastico. Tanti altri poliziotti invece hanno detto l'esatto contrario. Quindi metà e metà? No, più quelli a favore mio, ve lo assicuro. E oggi c'è stato uno che ha detto che voterà a me, che è un bravo giornalista della radio, si chiama Cruciani, non so se lo conoscete, che ha detto che voterà a Maroni.